Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi prepariamo insieme i waffer, quei tipici dolcetti che si mangiano accompagnandoli con il gelato. Vi propongo questa preparazione perché è davvero facile e veloce andare a prepararli, sono davvero buoni e ora si trova praticamente ovunque questa macchinetta che è quella che serve per andare a cuocerli e magari vi potreste fare anche un regalo in un futuro così avete già visto come si possono andare a preparare e guardiamo che ingredienti ci servono e ci serve 150 g di burro fuso che io ho fatto raffreddare, un pizzico di sale, 4 uova, 10 g di lievito, un cucchiaino di zucchero a velo, 150 g di zucchero, 250 g di farina 00, io andrò ad aggiungere anche una fialetta di aroma alla vaniglia e una al limone e poi 8 cucchiai da minestra di acqua calda. Mettiamoci a preparare i nostri waffer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando abbiamo fatto l'impasto mettiamo a scaldare questa macchinetta, quella apposta per fare waffer e quando sarà calda incominciamo ad andare a prelevare un po' di impasto, io ormai ho la mia unità di misura che è lui e andiamo a cuocerli. io l'ho messa al massimo, ora poi guardo se dovrò abbassarla un po' e cuociono davvero in pochissimo tempo. Andiamo a controllare. Il primo è già pronto. Io in genere prima li vado a mettere su una griglia e poi su un piatto. semmai abbasso, qui ora si fa il secondo. e si procede in questo modo finché non abbiamo finito l'impasto. andiamo a controllare. andiamo a controllare. e questi sono i nostri waffle. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un grande bacio a tutti e vi lascio la foto dei nostri waffle farciti con il gelato. Ciao! 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 Ciao!